Expensive Brands Expensive Brands Expensive Brands Expensive Brands Este viick Aliettati dalla musica-terapia Tra l'altro E si rendono conto di come questa azienda italiana Che è un'azienda che offre delle chicche molto particolari Immagina che certificano tutto Fanno test microbiologici Circa due mila test all'anno Depurano in autonomia le acque reflue sono attentissime a tutte quelle che sono le leggi e tutti quelli che sono i vincoli che possono esserci perciò noi diciamo ai nostri clienti, comprate italiano perché sappiamo, è riconducibile, è certificato quello che utilizzate le maglie della legge italiana sono molto più strette nel nostro settore e diciamo non abbassate mai la qualità, questa è la cosa fondamentale accompagniamo la nostra offerta di prodotti con la formazione e questi corsi come funzionano? noi offriamo tutta una serie di consulenze che vanno dal One to Salon che è un corso che abbiamo inaugurato da poco, immagina che l'offerta è variegata nel nostro mondo soprattutto a Roma dove tante aziende sono presenti ma poche aziende hanno pensato di mandare il tecnico nel salone quindi cucire sartorialmente sulle esigenze del cliente un corso che sia un corso base, taglio, colore, mesh per la lavorante che abbia entrata o che sia un corso che il cliente ha perso o che sia un'esigenza particolare del cliente noi ci siamo o altrimenti offriamo tutto un ventaglio di opzioni che vanno dall'offerta accademica base ai avanzati il masterclass è sicuramente, il masterclass colore è la nostra kick, il tratto distintivo, molto distintivo roba di estetica no? c'è roba di tipo unghie e altro? no no no, make up si però anche make up make up si ed è lei mia figlia che sta là, laggiù in fondo che sta là ciao eh è lei che si occupa del make up condividete quello che state guardando, ascoltatori andate a mettere un like la zona via Passo Lombardo la possiamo definire come tra Vermicino e Tor Vergata per farvi capire e quindi lì proprio accanto ad un car full market trovate Expensive Brands grazie a Domenico Marco Mastronardi grazie a voi grazie grazie a tutti